Una sconfitta amara per il centro-sinistra, così il segretario provinciale del PD Albano Ricci commenta l'esito delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra, dopo aver perso Arezzo, Sansepolcro e Montevarchi, per la prima volta nella storia perde anche la provincia di Arezzo. Una resa ancora più cruda, commenta Albano Ricci, dalla preoccupante fragilità di tenuta del nostro partito. Una stenzione pesante, assenze, superficialità, conti che non tornano. Ancora una volta emerge tutta la nostra debolezza, la nostra propensione al distinguersi, al contarsi, a regolare in modo non palese conflitti interni. Ginetta Menchetti, aggiunge Ricci, era un ottimo candidato, esperta, competente, sindaco stimato. La sua storia personale e la sua energia sarebbero stati valori aggiunti per un incarico così delicato. Ringraziamo lei e tutti i candidati per aver insegnato alla nostra comunità così tanto in questa fase, umiltà, responsabilità, serietà e semplicità. Anche questa sconfitta, secondo il segretario del PD, esige una ripartenza, maturità e resistenza e un supplemento di coscienza e di impegno da parte di tutti. La responsabilità è grande ed è di tutti, nessuno escluso, la prima è mia, doveroso e leale a metterlo. Non verranno fatte caccia alle streghe o date facili colpe, ma si apre una fase di confronto duro, di riflessione severa. Ci sono tante sfide importanti a partire dalle prossime amministrative, il cambiamento dentro di noi deve essere radicale. E su Facebook è particolarmente duro il commento di Donato Caporali, che comunque accederà al nuovo consiglio provinciale. Complimenti al nuovo presidente della provincia Silvia Chiassai, un pensiero speciale ai miei compagni di partito e centrosinistra, molti tanto so che mi leggono, che hanno votato, tradendo il loro candidato, i fascio leghisti ben 19, o non si sono recati alle urne, altre tanti, oppure hanno fatto scheda bianca.